Idrocarburi, sindaco, sui Monti Downi si continua a prendere ma a dare sempre meno. Sì, negli ultimi giorni abbiamo avuto l'ultimo episodio, a Taranto stanno litigando sull'utilizzo di un milione e sei di roi altissi idrocarburi. Peccato che non dicono che questi soldi sono stati prodotti nel nostro territorio per colpa a causa delle trivallazioni che caratterizzano le nostre aree da oltre 40 anni. Qual è la proposta? La proposta è che per una questione di giustizia, di rispetto per gli abitanti di questo territorio tutte le roi altissi prodotte da noi vengano reinvestite nel nostro territorio che non a caso è quello più spopolato, quello più in difficoltà dal punto di vista socio-economico dell'intera regione. Alcuni suoi colleghi chiedono l'istituzione e la realizzazione di parchi eolici comunali per fare cassa, lei è d'accordo? Sì, ci sono delle formule nuove, tipo quella delle comunità energetiche che si possono sperimentare. L'idea è quella di far restare parte dell'energia prodotta, parte della ricchezza prodotta sul nostro territorio. Dobbiamo in qualche maniera sfatare questo paradosso che ci vede essere la parte più produttiva della regione ma anche la parte più povera. È evidente che così non si può andare avanti. Il 15 e 16 novembre i sindaci dei Monti Dauni in ritiro in un convento a San Marco la Catola per vedere un po' lo stato di salute dei Monti Dauni. Che cosa deve emergere in quell'incontro, in quei due giorni? Intanto è la dimostrazione che noi vogliamo fare squadra, che vogliamo fare le cose per bene, che vogliamo essere propositivi e che in una fase così importante anche della nostra regione vogliamo dare il nostro contributo alla nuova programmazione. L'idea è quella di trovare la sintesi per una visione unitaria del nostro territorio e di iniziare a proporre le misure concrete per poter risolvere parte dei nostri problemi. Oggi quali sono le maggiori criticità di questo territorio? L'emergenza è una, è quella dello spopolamento. Tutte le aree interne italiane soffrono di questo problema, c'è una grande sperequazione territoriale, le distanze tra i territori si stanno aumentando sempre di più, quindi bisogna intervenire con tutte le misure utili, quelle infrastrutturali, quelle fiscali, quelle che incentivano le ricadute occupazionali sul nostro territorio per far restare le persone qui a presidiare le montagne. Non solo criticità, ma meno male anche punti di forza. Quali sono i più importanti? Il nostro è un territorio ricco, un territorio che ha tantissime risorse dal punto di vista ambientale, culturale, enogastronomico ed rappresenta una parte importante della nostra provincia anche dal punto di vista della vivacità dell'azione amministrativa. I comuni dei Monti Dauni spesso si ritagliano uno spazio importante perché sono laboratori di buone pratiche.